Ricorda, chi non salta non vince mai. Tanto non si guarisce, nessuna è guarita, tutte hanno ricadute, nessuna può guarire dalla vulvodinia. Rifletti è importante come ti parli, che copione stai scrivendo per il tuo film, che note stai usando per comporre la tua musica. In oltre dieci anni di attività ho aiutato donne come te a vincere il dolore pervico senza combattere. E ciao Anima Bella, sono sempre Elena di Elenazione Healthy Life Coach e oggi voglio invitarti a riflettere. Le parole che usi per parlarti sono molto importanti perché creano in millisecondi stati biochimici nel tuo corpo. Prima però di affrontare questo tema, come sempre se ancora non l'hai fatto, iscriviti al canale e vieni a trovarmi sulla mia pagina Instagram Elenazione Healthy Life Coach. Le parole che usi nel tuo dialogo interno sono vitali? Bisogna attentamente sorvegliare quello che ci diciamo dentro di noi. È vitale, pertanto che anche tu metta immediatamente in atto una potente dieta linguistica mind body potenziante per te. Una dieta che elimini subito dalla tua tavola la terrificante parola cronico e altre micidiali, profezie autoavveranti del tipo tanto non si guarisce, nessuna è guarita, tutte hanno ricadute, nessuna può guarire dalla vulvodinia perché quella roba è tossica, ragazze. È tossica per 300 miliardi di reazioni biochimiche che si scatenano dentro il tuo corpo quando pronunciamo dentro di noi mentalmente questa roba. Quindi anche frequentare luoghi virtuali o reali e chiacchiere che sono incentrate tutte su questo e su quanto brucia e su quanto dolore getta il corpo e continua a mantenerlo sempre nello stesso stato biochimico. Tutte queste cose e le parole negative, il negative self talk che ci diciamo sui sintomi e su qualsiasi altra cosa che sta accadendo nella nostra vita, tutto questo cosa fa? Ancora, crea un ancora potentissimo, ancora negativamente il tuo futuro al tuo passato e li rende uguali. In pratica si ripete sempre lo stesso schema, lo stesso pattern, ok? E tu non vuoi ripetere sempre le stesse cose perché se continui a ripetere sempre le stesse cose ovviamente otterrai sempre gli stessi risultati. Questo vale in qualsiasi cosa della vita. In oltre 10 anni di attività ho aiutato donne come te a vincere il dolore pelvico senza combattere, grazie a un potentissimo arsenale di tool che includono anche questo aspetto basilare della dieta linguistica MindBody. Sono appunto tool, cioè strumenti, allenamenti che funzionano per ogni cosa della vita. Quindi non solo per vincere la vulvodimia, non solo per vincere lo stress, non solo per vincere nel campo della carriera, sia che tu stia cercando lavoro o che tu stia cercando una promozione e di migliorare la tua attività lavorativa, magari mettendoti in proprio, perché no? e naturalmente nel campo delle relazioni, relazioni di qualsiasi natura, quindi famiglia, parenti, amicizia e l'altra persona importante della tua vita. Sono più di 10 anni che lavoro con le donne grazie a questo potentissimo arsenale di tool e le ho facilitate nel trovare sollievo dal dolore e libertà nel percorso di guarigione. Tutto inizia dalla mia esperienza personale di Vittoria sulla sindrome vulvo vestibolare, e quindi non su aria fritta, ci sono passata io per prima ben due volte. E naturalmente tutto si basa sempre sulla mia esperienza personale, giorno per giorno, in tutto ciò che mi succede nella mia vita. Porto in campo, prima di tutto, il mio esempio reale. Rifletti è importante, quindi come ti parli, le storie che ti racconti e su cui continui a ruminare, a rimuginare. Sono storie di successo o di fallimento? Pensi che tanto ormai è meglio rinunciare? O comunque è sempre meglio non rischiare? Che copione stai scrivendo per il tuo film? Che noti stai usando per comporre la tua musica? Ricorda, chi non salta non vince mai. Jump now, salta ora. Se ancora non l'hai fatto, ricordati di iscriverti qui al canale e attivati la campanellina, così sarai sempre aggiornata ogni volta che carico una nuova videopillola qui sulla MindBodyCoachingTV. Vieni a trovare sulla mia pagina Instagram, Elena Tione Healthy Life Coach, e qui sotto nel box info trovi tutte le informazioni per iniziare un percorso con me, le mie credenziali e molto altro, per aiutarti a dire addio al tuo dolore pelvico e creare davvero la vita che vuoi. Come al solito ti mando un bacio grandissimo qui dal mio studio in Roma e ci vediamo alla prossima!